Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, e in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla FIPILIP, rallentamenti in direzione Firenze per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze, per traffico intenso. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Ricordiamo infine che sono in vigore, a Firenze e nei comuni dell'agglomerato urbano, ordinanze anti-smog che prevedono blocchi o limitazioni ai mezzi più inquinanti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!